Diciamoci la verità, come puoi sperare che qualcuno ti ami se tu per prima o per primo, diciamo, non ti ami? Non hai la forza, diciamo, di amarti, non hai la forza di darti energie, quindi sarebbe veramente estremamente difficile pensarlo, quasi impossibile, che possa verificarsi una situazione di questo genere, soltanto chi si ama può a sua volta essere amato, quindi se vuoi davvero trovare la tua fortuna in amore, se vuoi davvero trovare successo in amore, devi necessariamente, che ti piaccia o no, sviluppare autostima, sviluppare forza interiore. Salutiamo Sissi e salutiamo Rosi e ricorda a tutti di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Allora, quindi è necessario saper per prima cosa sviluppare la propria consapevolezza, consapevolezza, perché nel momento in cui tu sei consapevole riesci tra l'altro a mandare a fanculo tranquillamente tutte le persone negative, come ad esempio i narcisisti, salutiamo Sabrina e salutiamo Niki, la consapevolezza di sé è il fondamento, praticamente di quella che chiamiamo intelligenza emotiva, di quella che chiamiamo forza che ti permetti di conquistare. Devi sviluppare quelli che sono i tuoi sentimenti, comprendere quelli che sono i tuoi sentimenti, e acquisire una visione del tuo mondo interiore, riconoscere i modelli di pensiero, che imprinting hai avuto, perché salutiamo la nostra ghinettina, Green Apple, perché se tu hai avuto un imprinting ad esempio legato al tradimento, ad esempio, e non lo riconosci, ti aggancerai su persone che ti tradiranno. Se hai avuto un imprinting legato all'abbandono e ti aggancerai su persone che ti abbandoneranno, quindi riconoscere anche il proprio tipo di imprinting, cioè l'autoconsapevolezza è un punto fondamentale. Quindi devi imparare a esplorare le tue emozioni. Per coltivare la consapevolezza del sé, devi imparare a esplorare quali sono le tue emozioni. Inizia a praticare, diciamo, a sintonizzarti sulle tue sensazioni fisiche, perché noi abbiamo delle sensazioni fisiche che ci danno comunque dei risponsi, ci danno comunque dei risultati, no? Se io inizio a sintonizzarmi sulle mie sensazioni, su quello che provo fisicamente, questo è abbastanza semplice farlo, ad esempio basta chiudere gli occhi, respirare, portare in questo momento l'attenzione sul respiro e focalizzare l'attenzione al nostro interno. Quindi avremo la modalità, bene Niki, il palo santo è sempre positivo, facciamo anche un giro di campana tibetana per dare le giuste frequenze, per dare le giuste energie che unite al palo santo di Niki ci potranno portare vibrazioni positive. Quindi questo è il primo punto importante, no? Nel momento in cui tu osservi le tue emozioni, perché se chiudi gli occhi, concentri il suo respiro, potrai osservare anche le tue emozioni, siano anche paure, siano anche, puoi anche annotarle, no? Quindi prenderne atto e annotarle. Ah, bene, l'ignetto di palo santo, brava Sissi, anche per Sissi, bene, bene. Il palo santo ricordiamo che dà vibrazioni positive, salutiamo anche la vecchia e salutiamo Pippoli. Quindi, tra l'altro, annotare, diciamo, le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre emozioni, i nostri sentimenti, ci permette di esternalizzarli, ci permette di acquisire una prospettiva diversa. E soprattutto, se salutiamo Crazy Robby, e soprattutto se facciamo questi esercizi in modo ricorrente, diciamo, potremmo riconoscere dei modelli e delle emozioni ricorrenti. Quindi, prova a farti anche delle domande, anche delle domande in questo momento. Prova a farti una domanda. Cosa mi sento in questo momento? Quali emozioni o quali situazioni? Prima, fatti la domanda. Che emozioni sto provando in questo momento? Fatela con gli occhi chiusi. Che emozioni sto provando in questo momento? Prova a sviscerare quali sono le emozioni che stai provando, e poi prova a farti un'altra domanda. Quali eventi o quali situazioni, quali persone hanno innescato queste emozioni? Quindi, questi qua si chiamano trigger, si chiamano interruttori. Se tu riesci a identificare, diciamo, i fattori scatenanti, le emozioni negative, puoi evitare di viverti nuovamente emozioni negative. La propoli, ah, la propoli è una manna al cielo, per cui il gratis. Ehi, qua mi scaturisce questo, soprattutto se mangio carboidrati. Ma io non ne mangio tanti carboidrati, ma quando mangio qualche carboidrato mi viene subito. E poi parlo comunque tanto. Quindi, questo è il primo punto fondamentale. Trovare quali sono, trovare quali sono le modalità che ti fanno scattare, diciamo, queste emozioni. E poi dobbiamo identificare un'altra cosa per sviluppare autostima, identificare gli schemi e sfidare anche. Dobbiamo anche sfidare gli schemi di pensiero negativo. Cioè, oltre a esplorare le nostre emozioni, oltre a coltivare la consapevolezza del sé, dobbiamo sfidare, eliminare... Dobbiamo eliminare il quinto chakra, il chakra della gola. Dobbiamo eliminare i modelli di pensiero negativo, che contribuiscono comunque pesantemente al nostro disagio. Quindi ci sono schemi di pensiero negativo, che sono anche, tra virgolette... Sì, io uso solo pasta integrale quando la uso, oppure di grano saraceno. Comunque, abbiamo degli schemi di pensiero negativo, no? Che spesso sono anche distorsioni. Chi segue il mio seminario sulla Pianelde, sul canale Massimo Tramasco, sa che, diciamo, ci sono dei meccanismi autosabotanti che dobbiamo imparare a gestire. E quindi le distorsioni cognitive includono, ad esempio, diciamo, catastrofizzazione del, diciamo, della nostra vita. Pensieri in bianco e nero, o è bianco e nero, mentre invece ci sono anche altre situazioni. Insalata Iosa di Tarassaco, Tarassaco, Quindi dobbiamo imparare a identificare questi schemi di pensiero negativo. Quindi, ad esempio, attraverso, di nuovo, l'autoriflessione. Quindi prova a chiudere gli occhi e lasciare libero il tuo dialogo interiore, ma mantenendo una consapevolezza sul tuo dialogo interiore. Quindi lascia che il dialogo interiore si manifesti. Questo è un esercizio molto utile, perché mentre tu stai con gli occhi chiusi e respiri, ti metti come se fossi un osservatore e osservi il tuo dialogo interiore. Osservi semplicemente il tuo dialogo interiore. Vedrai che verranno fuori dei pensieri negativi. Anche dei pensieri negativi. Quindi una volta che l'hai identificato, che hai identificato, diciamo, vai a mettere l'antidoto. L'antidoto è praticamente il contrario. Cioè, mettiamo l'antidoto, mettiamo il pensiero contrario. Immettiamo il pensiero contrario direttamente nella nostra mente. Perché il presupposto è che noi, come esseri umani, non possiamo avere due pensieri diametralmente opposti contemporaneamente. Quindi se io emetto il positivo, automaticamente allontanerò il negativo. E questo è un punto fondamentale. L'autoconsapevolezza porta proprio a quello. Quindi valutando criticamente i nostri pensieri, possiamo sviluppare anche delle, se vogliamo, interpretazioni più equilibrate di noi stessi. E poi ovviamente dobbiamo iniziare a praticare l'autocompassione. Non squalificarci mai. Non entrare mai in conflitto con noi stessi. Questi sono i presupposti base, diciamo così, per eliminare la sfortuna. Soprattutto in amore. Il pensiero contrario lo immettiamo deliberatamente. Pensandolo deliberatamente. E questo è un punto fondamentale. Pensandolo deliberatamente. Quindi questo primo punto è fondamentale. Ad esempio, se tu hai il pensiero ma non mi merito l'amore, sono sfortunato in amore, devi mettere i pensieri contrari. Un pensiero di sfortuna viene sconfitto da un pensiero di fortuna. Un pensiero di incapacità viene sconfitto da un pensiero di capacità. Io sono capace. Un pensiero di impedimento viene, diciamo, sconfitto da un pensiero vincente. Quindi dobbiamo abbracciare, coltivare l'autocompassione. L'autocompassione è il primo modo per compassione, nel senso positivo del termine, è un aspetto fondamentale, diciamo, per amare noi stessi. dobbiamo abbracciare la nostra identità fondamentalmente, abbracciare ciò che siamo e lasciare andare tutto ciò che è negativo. Tutto ciò che è negativo dobbiamo lasciarlo andare. Un'altra cosa che ti suggerisco è imparare l'arte del perdono. Praticare il perdono, soprattutto di se stessi, è un altro punto fondamentale. Praticare il perdono e lasciare andare il senso di colpa è un altro punto fondamentale. Il perdono è il sesto chakra, il chakra del perdono. Quindi, perché si dice, ad esempio, che il Cristo, Gesù, sia venuto sulla terra proprio per portare, per aprire il sesto chakra, che è il chakra la cui qualità è quella del perdono. Quindi, quello che dobbiamo imparare a fare è, ad esempio, semplicemente, se vogliamo utilizzare delle tecniche esoteriche, portare l'attenzione sul sesto chakra, possiamo anche facilitarlo poggiando una mano qua nella fronte e dire la frase, possiamo utilizzare la frase io mi perdono, oppure madre Kundalini io mi perdono perché dobbiamo perdonare soprattutto noi stessi. Perdonare se stessi è una parte essenziale dell'autocompassione perché andrai ad eliminare i sentimenti di inadeguatezza, i sentimenti di colpa e quindi il fallimento il fallimento anche in amore dobbiamo abbracciare la nostra identità esatto, la mano sulla fronte è legata al sesto chakra quindi perché noi portiamo automaticamente se io metto la mano da qualche parte porta automaticamente all'attenzione porta automaticamente all'attenzione sulla mano e quindi sul punto in cui la mano è a contatto beh, la mano destra o la mano sinistra normalmente si mette la mano destra e si tiene la mano sinistra aperta perché la mano sinistra è quella del desiderio che riceve energie e quella è ricevente e la mano destra è quella dell'azione quindi normalmente normalmente poi ci sono alcuni casi normalmente l'azione viene fatta con la mano destra mentre si tiene la mano sinistra aperta quindi questo è un po' il punto fondamentale penseranno che la febbre ah beh se lo fai in pubblico magari pensano che devi sentire la febbre però in realtà è molto importante quindi in questo modo è anche importante lasciare lasciarti alle spalle i fardelli del passato perché spesso noi abbiamo ci portiamo dietro dei fardelli del passato che ci impediscono di vivere l'amore questo ad esempio succede perché se tu hai la relazione con Mario è andata male la relazione grazie grazie Sabrina la relazione con Mario è andata male la relazione con Francesco è andata male la relazione oppure con Maria con Francesca insomma facilmente inizierai a pensare che tutte le relazioni andranno male e invece non è così invece non è esattamente così devi praticamente iniziare piano piano a sviluppare una nuova consapevolezza quindi perché se tu metti dei blocchi questi blocchi non ti permetteranno di viverti nuovamente l'amore ad esempio un'altra cosa che possiamo fare per vivere l'amore è agire sul chakra del cuore quindi in questo caso sempre la mano aperta la mano sinistra aperta la mano destra appoggiata sul cuore e portare proprio l'attenzione qua al centro del nostro petto in questo modo sullo sterno all'altezza del cuore in questo modo possiamo facilitare e esprimere ad esempio io merito l'amore io sono amore perché io sono amore mi fa vibrare alle frequenze dell'amore quindi sono tutte delle tecniche diciamo delle strategie che permettono di andando proprio a lavorare sul corpo energetico sul corpo sottile salutiamo Roxy andando proprio a lavorare sul corpo energetico sul corpo sottile mi permettono di andare a lavorare proprio su quel chakra in questo caso il chakra del cuore rappresenta il chakra dell'amore quindi è molto importante salutiamo Dorothy stabilire anche dei confini sani fondamentalmente per difendere quelli che sono gli influssi negativi perché noi purtroppo viviamo degli influssi negativi è una una tecnica molto utile è quella dell'utilizzo dei bandan i bandan che cosa sono sono dei gesti che non agiscono ovviamente sul corpo fisico perché il corpo fisico è fisico diciamo ma attraverso dei movimenti movimenti di potenza dei bandan vanno ad agire sul corpo sottile sul corpo energetico quindi per proteggerci diciamo ed evitare che possano entrare persone negative persone che in amore ci possano coinvolgere attraverso la sofferenza piuttosto che attraverso il piacere c'è un salutiamo Deborah c'è un esercizio che è molto semplice che serve proprio a proteggerci quindi sono i bandan si tratta di tenere sempre la mano sinistra aperta la mano sinistra aperta con verso il palmo verso l'alto e usare la mano destra passare la mano destra sul nostro corpo partendo diciamo dal fianco sinistro risalendo risalendo dal fianco sinistro e scendendo giù fino al fianco destro quando si arriva in fondo si rivolge il palmo verso la terra per scaricare sul terreno si fa in andata e si fa al ritorno questo passaggio sopra il capo in questo modo ogni passaggio vanno fatti sette volte perché è uno per chakra quindi la prima volta si porta l'attenzione alla base della colonna vertebrale ed è il primo passaggio quindi sempre un'andata e un ritorno la seconda volta si porta l'attenzione all'altezza dei genitali la terza volta si porta l'attenzione all'altezza dell'ombelico la quarta volta all'altezza del cuore la quinta volta all'altezza della gola la sesta volta all'altezza della fronte e la settima volta all'altezza della fontanella diciamo di questa zona da cui c'è sì sette volte mantenendo l'attenzione partendo dal chakra radice fino al saasara che è il settimo chakra il saasara è il chakra il fiore di loto dai mille petali il fiore di loto dai mille petali o chakra corona o chakra del capo è quello che diciamo ci collega con gli aspetti più divini fondamentalmente in questo modo attraverso questi bandhan diciamo noi evitiamo che energie negative in qualche modo energie negative soprattutto anche persone che hanno energie negative possano influenzarci cioè come se andassimo a schermare perché le diciamo anche la disistima anche passa attraverso le energie negative che entrano dai nostri corpi sottili quindi questi sono delle modalità diciamo per stare meglio fondamentalmente ovviamente dobbiamo anche imparare poi a gestire lo stress della vita quotidiana no perché gestire lo stress quotidiano è molto importante ci possono essere diversi stress ovviamente e quindi dobbiamo imparare ad esempio anche a fare delle azioni per eliminare gli stress possiamo fare delle azioni che ci fanno andare nella direzione che ci fanno andare nella direzione diciamo grazie niki prendo il tamburo sciamanico grazie niki questo è un altro punto importante secondo me che quindi fare anche un'attività consapevole ad esempio fare uno sport molti di voi non fanno non fanno uno sport la live sulle energie negative potrei anche farla va bene ci sono anche persone che ad esempio hanno non praticano sport non praticano nessuno sport non praticano attività fisica questo secondo me è deleterio perché il nostro corpo ha bisogno di fare attività fisica non è che uno vabbè io sono partito dalla palestra non è che uno deve per forza fare attività fisica alzare la forchetta non è uno sport però sarebbe importante fare un'attività fisica regolare io suggerisco ad esempio quella con i pesi soprattutto agli uomini ma anche alle donne perché perché diciamo questo serve anche a scaricare ma poi l'attività fisica con i pesi serve anche a se abbinata a una dieta dimagrire anche a fortificare un po' il fisico per le donne è poi degli influssi positivi voi che soffrite di osteoporosi diciamo quindi comunque è molto importante secondo me coltivare un'attività fisica regolare no perché regolare non vuol dire che ci sono persone che vanno in palestra una volta al mese certo anche una volta al mese è regolare ma è una regolarità che è troppo troppo misera troppo bassa quindi bisognerebbe almeno andare come dire andare in palestra diciamo un giorno sì un giorno no non dico tutti i giorni ma un giorno sì e un giorno no perché il discorso di fondo è la regolarità la continuità no perché bene o male tutti ogni tanto come quelli uomini che dicono io vado a giocare al calcetto una volta a settimana ma una volta a settimana vabbè piuttosto che niente meglio piuttosto però andrebbe fatta in modo regolare quindi in questo modo se tu riesci a sviluppare tutti i giorni è meglio ovviamente sviluppare diciamo queste capacità è un punto fondamentale quindi anche sviluppare un'altra caratteristica due volte a settimana eh sì due volte a settimana è un po' pochino diciamo il minimo sindacale sarebbe tre volte alla settimana eh tutte le domeniche tutte le domeniche poco ecco queste le persone fanno questo no cioè il come dire il camminatore della domenica io ho la palestra a casa ma vado anche ma vado in palestra però la palestra a casa la faccio solo in condizioni diciamo se per caso viene il diluvio fuori quindi comunque noi abbiamo la possibilità di fare tante cose però dobbiamo impegnarci e dobbiamo diciamo sviluppare queste capacità quindi anche sviluppare la mente no coltivare fiducia coltivare assertività è un punto fondamentale perché dobbiamo diciamo sviluppare anche fiducia in noi stessi quindi essere assertivi quindi avere una comunicazione decisa è un altro punto molto importante che secondo me sono sono molto importanti allora beh ci sono anche delle pratiche spirituali tipo il mindfulness come dicevo prima la meditazione sono tutte cose che sono sicuramente importanti è molto importante fissare degli obiettivi realistici anche da un punto di vista sentimentale affettivo è inutile che stai in seguire ad esempio persone che non ti vogliono persone che non ti vogliono non ha nessun senso cioè questo è un altro punto fondamentale non fissare degli obiettivi realistici se tu sei innamorata che ne so di chi per qualunque motivo non ti vuole devi guardare oltre non devi stare ad accanirti su quelle situazioni l'accanimento il rimuginare il volere a tutti i costi diciamo ottenere qualche cosa non ci porta a nessun risultato dobbiamo imparare dobbiamo imparare a guardare oltre dobbiamo imparare a guardare oltre dobbiamo imparare ad andare avanti dobbiamo sperimentare dobbiamo imparare a esplorare dobbiamo imparare a dare valore a noi stessi fondamentalmente bene bene grazie Nicky grazie Nicky tra l'altro noi abbiamo un intuito dentro di noi c'è un intuito e c'è un sesto senso e dobbiamo imparare a fidarci del nostro intuito ascoltare i segnali del corpo per decidere se una persona può andare bene per noi oppure non può andare bene per noi e scaricare subito persone che non vanno bene l'esempio classico che faccio è quello delle persone impegnate delle persone sposate è inutile che se tu vuoi una tua famiglia una tua situazione ti vai a impelagare in relazioni con persone sposate non otterresti nessun risultato quindi scartare le persone sbagliate è il modo migliore per far entrare le persone giuste fin tanto che sarai legato alle persone sbagliate difficilmente anche solo mentalmente potrà entrare la persona giusta e questo fa anche parte dell'autostima quindi questo è anche una parte dell'autostima quindi queste sono un po' le conclusioni dobbiamo impegnarci in un viaggio continuo del nostro miglioramento un viaggio continuo che ci porta a coltivare resilienza autostima empowerment traendo forza proprio da noi stessi perché la forza è dentro di noi questo è il punto fondamentale bene mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video e ci vediamo ci vediamo al al